Grazie. Grazie. Alle sei e mezza ci sarà un'inaugurazione di uno spettacolo per fare felice. Scusi, il manifesto con lo spettacolo. Grazie. Per contattare il valore di essere... Il valore di essere... Il valore di essere... Sul compito. Sì, per contattare il vostro posto. Sì. Il valore di essere donna. Eh? No. Perché dovevo dire... La pagina. La pagina. La pagina del museo è... Museo Wow. Ho capito. Quanto? 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 Quanto fa? Quanto fa? Stiamo citando la mostra di Felix che si chiede oggi, che è l'ultimo giorno. sembra che questo Felix sia ispirato grazie a tutti 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 grazie a tutti